Il nuovo servizio di strisce blu e parcheggio, ritornato sotto gestione privata, dovrebbe partire entro fine mese, quando di fatto scade anche la proroga tecnica concessa a Ghelas che ha svolto questo tipo di attività sulla sosta. In municipio sono in corso delle verifiche perché la società SIS, risultata seconda in graduatoria, ha inoltrato una nota con la quale chiede di verificare l'attribuzione di uno dei coefficienti di punteggio che la Commissione ha assegnato alla Eco Parking di Lascari. Risultata giudicataria, la stessa impresa palermitana, sono state richieste delle contradduzioni e funzionari comunali dovranno valutare per confermare l'aggiudicazione, per ora solo provvisoria, oppure per mutare l'esito e affidare le attività all'altra azienda. Una decisione potrebbe essere formalizzata entro martedì prossimo. Sicuramente il nuovo servizio verrà definito entro il 31 marzo con l'assegnazione definitiva per avviare le attività, così spiega l'assessore Giuseppe Licata che ha coordinato la fase preparatoria per arrivare alla gara e riattivare un servizio che per il Comune può far cassa. Concluse le verifiche che sono in corso, si procederà quindi all'assegnazione definitiva. L'azienda, seconda in gradatoria, non ha presentato un ricorso ma una nota con la quale chiede di rivedere uno dei punteggi assegnati alla prima classificata. Nell'offerta della Eco Parking che ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria, si prevedono tre dipendenti in più full-time rispetto a quanto riporta il bando, due in più part-time, nove parcometri aggiuntivi rispetto a quelli del bando, l'impegno a realizzare segnale etica e un sistema di pagamento anche online. L'aggiudicazione è arrivata con un'offerta caratterizzata da un rialzo del 30% sul canone concessorio. L'affidamento si estende per tre anni, gli introiti per anno sono stati individuati in almeno 400.000 euro. La scorsa settimana sono stati pubblicati gli atti e verbali di gara. La Filcams CGL attraverso il segretario provinciale Nuccio Corallo però richiede all'amministrazione comunale di non dimenticare la posizione dei lavoratori storici del servizio di sostappagamento. Anche per questo ritiene necessario un confronto vero e proprio che si estenda proprio al destino dei lavoratori.